buongiorno 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 bentornati ad una nuova puntata di studio siamo la quindicesima puntata wow allora oggi volevo parlare di un tema che è caro secondo me a molte persone a me personalmente è un tema che affronto molto ci penso spesso questa cosa che la dipendenza degli smartphone ci ho anche fatto un video su hd blog sì perché molte persone sottovalutano secondo me quello che lo smartphone è nelle nostre vite l'importanza che ha e soprattutto quanto ne siamo dipendenti la maggior parte delle persone sottostima il tempo che utilizza lo smartphone ogni giorno ditemi se non è vero che la prima cosa che toccate al mattino è il proprio smartphone per spegnere la sveglia o anche per guardare i social per guardare le mail ditemi se non è vero lo smartphone è veramente a mio parere ha completamente cambiato le nostre vite negli ultimi 10 anni 12 anni e se ci pensiamo se mettiamo e vogliamo mettere una bandierina all'inizio di questa rivoluzione questa rivoluzione tecnologica ma anche proprio comportamentale l'attenzione delle persone è cambiata diamo molta più attenzione a quello che succede dentro il nostro smartphone che quello che succede nella vita reale addirittura ci sono persone che dicono che il mondo si è invertito il mondo reale è diventato il mondo dagli smartphone e il mondo invece finto il mondo virtuale è diventata la vita vera è diventato un po matrix e spero che non continui così perché sennò finiremo molto male volevo elencare 10 12 servizi e ditemi se non li avete utilizzati almeno una volta questa settimana wikipedia facebook youtube skype spotify netflix twitter you porn airbnb instagram whatsapp e trip advisor ne avete utilizzati un bel po vero cioè almeno io personalmente sì non vi dico quali però sì preferiamo anziché chiedere alle persone google aree sono tante le azioni che preferiamo fare con il nostro smartphone anziché chiederle nella vita reale trip advisor è uno di questi motivi e pensate solamente quando parlate con qualche persona squilla il telefono è un messaggino è una notifica è una stupida notifica di qualche applicazione l'attenzione delle persone della maggior parte delle persone va sulla notifica ne siamo strettamente dipendenti anche se non lo sappiamo facciamo un passo indietro e partiamo davvero dalla rivoluzione dalla rivoluzione dello smartphone l'arrivo dell'iphone nel 2007 tra l'altro è stato presentato dodici anni fa proprio in questi giorni mentre sto parlando ecco a gennaio e vedere steve jobs come se la spassava su quel palco è qualcosa di unico vi consiglio veramente di guardarlo perché un pezzo di storia che è già stata scritta quando steve jobs presentò l'iphone gli altri telefoni messi a confronto del primo iphone erano qualcosa di di terribile erano qualcosa di completamente inusabile se ci pensiamo oggi erano inusabili vi ricordate le freccette per muoversi e quando arrivò il touch il touch per come lo conosciamo oggi il multi touch il touch con le dita quello che ti sporca lo schermo uno dei problemi iniziali che la gente ne discuteva mi ricordo era cavoli ma poi dopo ho sempre il cellulare con le dita sporchi mi ricordo il primo iphone era veramente qualcosa di rivoluzionario si vedeva che qualcuno si era messo lì e aveva ripensato tutto da capo noi abbiamo molto felice di aver portato un po' di rivoluzionario user interfaccia per il mercato in il nostro tempo la prima era la mouse la seconda era la click wheel e ora siamo arrivati a portare molti touch per il mercato e ogni di queste rivoluzionario user interfaccia ha made possibile un rivoluzionario prodotto pensiamo alla differenza che c'era qualche anno fa nell'utilizzo della tecnologia c'erano i libretti di istruzione c'erano gli esperti che ti dicevano come utilizzare quella tecnologia oggi si è completamente ribaltato il concetto la tecnologia più è semplice più è bella pensiamo oggi agli smartphone e pensiamo ai bambini sono un esperimento sociale bellissimo da vedere i bambini un bambino di tre anni sa già sbloccarti uno smartphone farti una foto riguardarla e magari la sa anche già pubblicare e non gliel'ha insegnato nessuno non ha letto nessun libretto di istruzioni anzi molto probabilmente non sa leggere però sa usare lo smartphone perché da quel momento dalla nascita dell'iphone il concetto di tecnologia è cambiato e qualche notizia qualche dato in più visto che ero un ex fanboy di apple è che apple ha innovato in tanti campi ha innovato perché ha portato la grafica sui computer per come la conosciamo oggi con le icone con le finestre col cestino erano degli oggetti che c'erano già nella vita quotidiana ed erano stati messi nel mondo virtuale ha innovato portando i font sui computer era qualcosa che i programmatori non pensavano assolutamente poteva pensarlo solo steve jobs hanno portato il mouse per come lo conosciamo oggi e poi ancora l'ipod l'iphone l'ipad ecco sono tutti dei servizi che ha portato apple e poi si è un po fermata devo dire e perché un fanboy come me di steve jobs e dell'apple in generale della filosofia sa benissimo che l'apple di oggi ha tanti parallelismi con l'apple dei fine anni 80 inizio anni 90 la apple che non si ricorda nessuno l'apple in cui non c'era steve jobs perché nell'85 jobs fu licenziato dalla sua stessa azienda l'azienda che aveva creato ne fondò un'altra fondò next e in quegli anni la gestione dell'apple passò ad ai manager ed è il parallelismo che io faccio con l'apple di oggi è che abbiamo troppi prodotti troppa scelta sul mercato se ci pensate quanti prodotti ha apple qual è l'ultimo ipad che è uscito voi ve lo ricordate e gli ultimi iphone sì gli iphone perché sono il prodotto di punta però anche lì c'è l'iphone xr xs tutta questa confusione qua mi ricorda tanto il periodo di fine anni 80 della apple in cui c'erano troppi prodotti in cui le azioni crollarono a un certo punto e dovettero richiamare steve jobs la lezione che io mi porto dietro sulle spalle da un sacco di anni da quando ho letto il libro di steve jobs la biografia di walter isaxson è che quando steve jobs tornò in azienda fece una cosa molto semplice prese una lavagna divise la lavagna in quattro quadranti ogni quadrante doveva avere un prodotto nient'altro doveva esserci molta più semplicità e secondo me ci sono due motivazioni per la quale apple adesso è veramente in difficoltà nonostante abbia innovato per anni il primo motivo è che c'è una saturazione del mercato degli smartphone dopo dieci anni che hanno venduto milioni di smartphone la gente si è stancata di comprare uno smartphone ogni anno va bene quando la novità ma la gente non cambia smartphone ogni anno a meno che glielo fai rompere e nell'ultima lettera tim cook dice appunto questo dice che le vendite sono diminuite perché la gente ha sostituito la batteria perché hanno aperto un programma di sostituzione batterie siccome erano difettose e con soli 30 euro mi pare la gente poteva sostituire le batterie ecco quello ha fatto diminuire le vendite ed è molto significativa come cosa significa che loro contano veramente tanto sull'obsolescenza programmata e d'altronde quasi tutti gli oggetti tecnologici oggi contano sull'obsolescenza programmata a un certo punto il tuo oggetto si deve rompere deve essere inutilizzabile può essere programmata perché smette di funzionare come la batteria che effettivamente non ti arriverà mai a fine giornata dopo due anni di uso intenso del proprio telefono ma può essere anche psicologica quella semplicemente di farti vedere dei nuovi smartphone con delle nuove funzionalità che sulla carta sembrano essenziali e quindi tu cambi smartphone questo rallentamento di vendite era prevedibile ha causato un aumento dei prezzi ecco se ci pensate oggi gli iphone costano più di 1000 euro alcuni modelli la prima causa è quella un innalzamento dei prezzi perché c'è un calo delle vendite e la seconda causa è che il valore percepito dalle persone è sempre più alto qualche anno fa ci si poteva porre la domanda se effettivamente poteva servirmi o meno lo smartphone pensiamo a tutte le persone di mezza età io penso a mia madre mio padre si ponevano la domanda ma mi serve veramente lo smartphone beh oggi quella domanda non se la fa più nessuno sì c'è lo smartphone ti serve per forza non tanto per scrollare continuamente facebook o instagram ma ti serve proprio per comunicare e quindi non c'è da sorprendersi se aumenta ancora perché le vendite sono in calo e le aziende tecnologiche lo sanno molto bene quindi voi pensate veramente che abbia senso spendere 1000 euro per un telefono e infine volevo concludere la puntata del podcast di oggi con la lettura di uno dei libri che ha cambiato la prospettiva di vedere le cose l'ho appena finito di leggere sono super contento di averlo letto si chiama the game è di baricco è un saggio e parla della rivoluzione digitale parla un po di quello che ho parlato io in questo podcast se vi è piaciuto andatevelo a comprare assolutamente volevo leggere semplicemente una paginetta del libro in cui baricco descrive la nostra epoca come ad un una persona che viene da un'altra epoca da un altro pianeta e lo fa in un modo secondo me incredibile il termine digitale viene dal latino digitus dito sulle dita noi contiamo e per questo digitale significa più o meno numerico nel nostro contesto il termine viene usato per dare un nome a un sistema piuttosto brillante per tradurre qualsiasi informazione in un numero se vogliamo entrare nel dettaglio si tratta di numeri formati dalla sequenza di due cifre lo 0 e l'1 potremmo accusare il 7 e l'8 ma insomma l'importante è che siano due cifre solo due corrispondenti più o meno ad on e off a sì e no bene quando dico tradurre qualsiasi informazione in una lista di cifre non mi riferisco alle informazioni che trovate sul giornale la notizia del giorno il risultato della partita o il nome dell'assassino no mi riferisco ad un qualsiasi pezzo di mondo che sia scomponibile in unità minime suoni colore figure quantità temperature traduco quel pezzo di mondo nel linguaggio digitale e diventa leggerissimo è giusto una serie di cifre non ha peso è ovunque viaggia ad una velocità disarmante non si trova per strada non si stringe non si sporca e non va a male dove lo mando arriva se dall'altra parte c'è una macchina capace di registrare quei numeri e ritradurli nell'informazione originaria il gioco è fatto per dire i colori non siete obbligati ad esserne al corrente ma un giorno abbiamo assegnato ad ogni colore un valore numerico preciso se la volete sapere tutta abbiamo deciso che i colori sono 16.777.216 e ad ognuno di loro abbiamo assegnato un valore numerico dato dalla sequenza di 0 e di 1 ve lo giuro perché fare una cosa così poco poetica beh semplice perché traducendo un colore in un numero lo posso introdurre in macchine che lo possono modificare o semplicemente trasportare o anche solo conservare lo fanno con irrisoria facilità senza il minimo errore a una velocità vertiginosa a costi ridicoli ogni volta che voglio rivedere il colore reale chiedo alla macchina di restituirmelo e lei lo fa notevole funziona uguale con i suoni o le lettere dell'alfabeto o la temperatura del vostro corpo sono tutti pezzi di mondo trasformati in una sequenza numerica beh insomma se vi piace compratevelo ve lo consiglio veramente noi ci vediamo la settimana prossima ciao